L'Empat Morale è una storia di radici, radici potenti e viventi. Soprattutto è una storia sul nostro mondo. Il nostro mondo è una passione che rinasce ogni estate. Lo sport mondiale che pratichiamo e giochiamo a modo nostro. Gli alti e bassi fanno parte del gioco, ma continuiamo ad andare avanti. È così che è stato fin dall'inizio. Abbiamo visto ragazzi cresciuti in casa, di alto livello, che ci fanno sognare. Abbiamo anche visto ragazzi di altri posti che hanno avuto un impatto globale. Mentre c'è un altro che è quasi pronto per il suo decollo. Che sia vecchia scuola o la velocità del nuovo Flying Film, Morale ha il suo impatto unico. È una melodia che non si dimentica mai. Non dimentichiamo i nostri costruttori, i visionari che hanno creduto nella nostra città. E ora c'è chi è appena arrivato e pensa in grande per questo club. In modo che anche loro possano fare il loro impatto morale. Qui, nella Ville de Caos. Unisciti a noi. Fai il tuo impatto morale. Fai il tuo impatto morale.